Una nuova iniziativa della casa editrice Mimep Docete. Attento al lupo! Giocando insieme conosciamo la vita di San Francesco. Un gioco da tavolo, con due livelli di difficoltà. Un percorso di 75 tappe con 75 carte domanda. Sorprese, insidie, il lupo è sempre in agguato per bloccarti il cammino. Bisogna arrivare alla meta, la perfetta Letizia. Conquistando i quattro pani delle virtù. Una buona strategia, un pizzico di fortuna e tanto divertimento. Super gioco, attento al lupo! Casa editrice Mimep Docete. Prezzo 17,90. Nelle migliori librerie.